A Livorno partirà un progetto che si chiama Cartoon Kids che guarda i bambini naturalmente, ne parliamo con Valeria Bicchierai, i bambini che possono imparare attraverso lo sport, attraverso la musica, attraverso il teatro e naturalmente stare in un ambiente bello, divertente durante tutto l'inverno. Sì, questa iniziativa nasce appunto dal fatto per sopperire alla cronica mancanza dei posti nelle strutture pubbliche e offriamo ai bambini la possibilità di divertirsi in primo luogo e di fare delle esperienze che a 3, 4, 5 anni non si potrebbero fare altrove. Ci avvaliamo di validi istruttori e insegnanti di teatro, judo e musica, i quali svolgeranno appunto delle attività che aiuteranno nella crescita sicuramente il bambino con attività psicomotorie, l'attività principale appunto del gioco sport dove si cimenteranno i bambini nel judo e nella baby fit box e nella giocomotricità. La struttura state sistemando, siete pronti per l'inverno e c'è grande entusiasmo da parte di voi. Sì, grande entusiasmo, questa sala appunto sarà di vita attraverso dei tappeti proprio per il judo e la baby fit box che è un'attività di calci e pugni al sacco attraverso la musica appunto il bambino potrà scaricare una grossa quantità di adrenalina quindi divertentissimo sicuramente. Dieci punti in cinque partite frutto di tre vittorie, un pareggio e una sconfitta, sette gol fatti e solamente tre subiti. Un avvio di campionato scoppiettante per il Livorno di Novellino.